Grazie a Susi e a voi tutti. Ci saranno per pochi, giustamente dice Susi e condivido questa visione. Poi parlerò, se me lo consentirei dopo, del fintech e degli extra profitti. Ho seguito la relazione del dottor Signoretti, però qui c'è un problema di fondo. Noi parliamo di desertificazione bancaria e qualcuno permette alle poste di vendere prodotti finanziari delle banche. Chi va alla posta apre il conto corrente, prende il mutuo, il mutuo magari le poste lo acquistano dai grandi gruppi bancari. La desertificazione bancaria c'è anche perché laddove non sono presenti più le banche il ruolo di attività bancaria senza licenza bancaria. Il ruolo di attività bancaria senza licenza bancaria viene svolto dagli uffici postali. Questa è un'anomalia solo presente in Italia. E qui qualcuno dovrebbe porsi il problema. Nelle slide che ho apprezzato e che ho seguito, nell'ultima linea manca un'attenzione anche per i dipendenti di banca, non solo per la clientela, rispetto a quello che sarà l'impatto del digitale nel settore. Allora, detto questo, io voglio andare controcorrente. Tanto chi mi conosce lo sa perfettamente, ma vado controcorrente con gli argomenti. Il primo argomento, la trasformazione, lo sappiamo tutti, che non è una novità nel settore. E ha ragione, dottor Signoretti, io l'ho detto più volte, che gli investimenti ci sono stati negli ultimi due o tre anni. Fino al 2020 c'erano investimenti virtuali. Ma qual è il fattore che sorprende più rispetto ad altri? È la velocità del cambiamento. È la velocità che in questi ultimi mesi c'è stata per quanto riguarda l'intero settore. Ora vado completamente controcorrente. La competizione è quella che ha dato l'accelerazione. La competizione più o meno sfrenata tra i gruppi bancari è quella che ha dato, che ha impresso, un'accelerazione dirompente. E voglio andare nel particolare. E cioè, se Unicredit prenderà, come credo, commercial bank, noi avremo nel settore bancario in Italia, legittimamente, un'accelerazione rispetto agli accordi nei gruppi e soprattutto rispetto a quello che accadrà nei gruppi rispetto alla trasformazione digitale. Cioè, quella situazione lì che si sta portando avanti non è una situazione che non avrà un impatto in Italia, ma avrà un impatto molto importante perché velocizzerà in maniera piuttosto sostenuta i tempi dei gruppi bancari e per quello che ci riguarda delle relazioni, per quanto riguarda poi eventuali accordi da fare. I piani industriali hanno scontato la velocità della trasformazione digitale. Una velocità che nei primi mesi, negli anni che lei ha citato, di 16, 17, 18, 19, 20, era piuttosto lenta, molto virtuale. Una velocità più convincente perché gli investimenti sono stati fatti in maniera molto importante. Quindi noi abbiamo sul digitale due tipi di piani industriali. Un piano industriale che fotografa la situazione del settore bancario fino al 2018 e una che la fotografa dal 2018 in poi. Ed un'altra fotografia sarà scattata da questo momento in poi. Perché è vero che è importante la cabina di regia, come giustamente sosteneva Susi, e ha spiegato bene quali sono le funzioni della cabina di regia. Ma la vera cabina di regia, tra l'altro quello non si chiama cabina di regia, ma è un comitato tecnico, però non la chiamiamo cabina di regia. Ma la vera cabina di regia, vi prego di ascoltarmi, sarà costruita dal primo gruppo bancario in Italia che farà un accordo importante con i sindacati di gruppo rispetto alla trasformazione digitale. E magari si farà pure al suo interno una cabina di regia bis rispetto a quella che già c'è. E non parla a bambera. I numeri parlano chiaro. 10 miliardi di euro sono gli investimenti, l'accennato in percentuale, programmati nei primi cinque gruppi bancari. 5 miliardi in tesa, 3 miliardi in igre e 2 miliardi da BPM e B per MPS. Altra novità importante che abbiamo gestito e sostenuto, il 50% delle assunzioni che fanno i gruppi, sono assunzioni che si riferiscono a specializzazioni, soprattutto rivolte all'innovazione tecnologica e al digitale. Perché le banche si servono dell'innovazione? Non solo per quello che ha detto lei, lei l'ha detto velatamente a parte, ma l'ha accennato comunque l'argomento. Crea ricavi e abbatta i costi. E rende competitive, e dovrebbe rendere competitive rispetto ai gruppi bancari. In Europa abbiamo due velocità diverse rispetto alla digitalizzazione. Abbiamo i gruppi bancari, quelli più importanti, che vanno molto più piano, come lei sa, delle società più specializzate, una su tutto Revolut. Revolut è una banca, chiamiamola così, importantissima, perché aveva, quando è nata in Inghilterra, prima del periodo della Brexit, 27.900 dipendenti in tutta Europa, poi c'è stata la Brexit, i vantaggi fiscali li ha persi, si è trasferiti in Lituania, dove ha portato da 27.900 persone, oggi attualmente hanno 7.900 dipendenti. Hanno 2 milioni di clienti in Italia e 40 milioni in tutta Europa. Sponsorizzano tutti, squadre di calcio in Italia, squadre di calcio, aeroporti, ospedali, squadre di palacane, tutto. Ed è una banca estremamente ricca. E quella è la società, più che banca, che fa, come dire, da traino rispetto a quello che noi dovremmo in qualche modo affrontare. Gli strumenti per gestire ce li abbiamo, l'ha accennato i primasusi, li voglio ripetere, il contratto nazionale, gli ammortizzatori sociali, il FOC, il fondo di isolare d'età e gli accordi di secondo livello. Qui c'è un problema storico. Se il contratto nazionale definisce, anche utilizzando la cabina di regia, definisce un percorso politico, politico, politico e dei contenuti politici e delle regole di carattere politico che vanno rispettate e i gruppi vanno in un'altra direzione, e i gruppi vanno in un'altra direzione, è chiaro che si pone un problema di incoerenza dell'importanza politica del contratto nazionale rispetto ai gruppi che vanno in un'altra direzione. Ha ragione Susi quando dice che i nuovi modelli, la nuova digitalizzazione, investirà principalmente in modelli di business. O ha già investito in modelli di business. Allora io però mi faccio una domanda. Siccome ha già investito in modelli di business, che senso ci ha sottoscrivere con qualche gruppo bancario l'esistenza dei contratti ibridi? Metà promotori finanziari e metà dipendenti di banca. Noi stiamo dando una mano con i contratti ibridi alla spinta verso una maggiore esasperazione del modello di business. E questa è una riflessione che ce la dobbiamo fare, quantomeno fra di noi. Termino dicendo che ci sono alle porte importanti accordi di gruppo, di importanti gruppi bancari. Per non subire e qui mi riferisco a tutti i gruppi, per non subire il timore che ho espresso prima, cioè che la cabina di regia se la faccia il primo o il secondo gruppo bancario che capre un fronte all'interno del proprio gruppo importante sulla trasformazione digitale. E soprattutto per non subire poi magari eventualmente tre o quattro call center in tutta Italia e questo vale non solo per un gruppo, ma vale per più o meno per tutti i grandi gruppi bancari. Ci buttano dentro 15-20 mila persone, gli lasciano il contratto dei bancari, Roma-Milano-Napoli e poi dopo come ci rapportiamo noi con queste persone che oggi lavorano con le sportelle e domani potrebbero stare all'interno dei con center a svolgere un'attività bancaria completamente diversa da quella che hanno svolto fino adesso. Questi sono i temi principali. Concludo dicendo per non subire una cabina di regia politica perché ha ragione Susi la cabina di regia nel contratto nazionale non tratta, non tratta, approfondisce e analizza rispetto a determinati temi e individua nuove figure professionali nuove attività e le trasmette poi alle parti in Abbi. Le parti in Abbi sono i sindacati e Abbi. Tra l'altro c'è un'importante novità la cabina di regia è composta da segretari generali da due segretari nazionali si dovrebbe riunire ogni due mesi e ne possono far parte dico lentamente in Abbi per quanto riguarda l'Abbi solo le persone che attualmente sono presenti nel CASL. Quella cabina di regia non tratta se un gruppo o due gruppi impongono un certo tipo di modello noi corriamo il rischio di correre dietro a quei gruppi per quanto riguarda la trasformazione del digitale che hanno imposto un certo tipo di modello e che chiaramente per questione di competitività tutti i gruppi bancari più o meno dovranno in qualche modo scimmiotare non seguire scimmiotare. Grazie. Grazie. Ma allora che cosa sono gli extra profitti è stato presentato bene prima da Susi cioè sono dei profitti extra che principalmente dipendono dal dal costo del denaro dalla posizione politica della BCE che segue sempre regolarmente la posizione che poi prende la Federa e la Reserva. Sul tema degli extra profitti io sono stato chiaro proprio sul vostro quotidiano io penso che imporre una tassa è quanto di mai conto producente perché per un momento molto semplice perché in Italia al di là delle epocrisie più o meno generali in Italia il sistema politico rispetto al sistema finanziario è estremamente debole il sistema politico in Italia conta meno di niente rispetto alla finanza ma la finanza io non parlo di capire personale con tutto il rispetto io parlo degli amministratori delegati che spostano che vanno che vengono quindi imporre a degli amministratori delegati che comunque faccio il caso di un gruppo su tutti intesa l'amministratore delegato di intesa mantiene un'azienda ma questo vale chiaramente per tutti gli altri gruppi mantiene un'azienda che ha oltre 88.000 dipendenti 80.000 dipendenti penalizzare con una tassa anche in presenza di extra profitti calata dall'alto solamente per dimostrare che questo governo verso le banche ha i muscoli quando è un governo che non ha i muscoli verso le banche o principalmente perché c'è una carenza di liquidità una carenza come dire di coperture finanziarie perché poi altrimenti se si va in deroga a certe regole si entra in un clima pericoloso con l'Unione Europea che ci può bastonare in qualunque momento la cosa migliore l'aspetto migliore sarebbe quello che le banche concordassero come credo le trattative in atto stanno portando a questa soluzione un contributo che non può essere una tassa perché obiettivamente le banche di tasse le pagano fin troppe fino ad oggi io almeno credo che bisogna essere intellettualmente onesti da questo punto di vista io non credo che noi abbiamo fatto il contratto nazionale solamente perché le banche hanno guadagnato parecchi soldi rispetto a prima io credo che abbiamo fatto un contratto nazionale perché c'è stato un sindacato che si è mostro veramente in maniera unitaria e anche le diverse posizioni dei banchieri poi si sono dovute allineare al fatto che la categoria era come tante altre categorie erano ferme da tempo sul contratto nazionale e che un adeguamento sia per quanto riguarda l'infanzione sia per quanto riguarda il costo della vita di ognuno di noi doveva essere garantito l'altro aspetto principale che volevo mettere a fuoco questa dell'intelligenza artificiale e digitale spesso assume il ruolo di un cartone animato non volevo di altro mi limito a questo perché il fintech io ci sono tornato più volte sopra il fintech come viene inteso nei paesi nordici quindi parlo di Svezia Danimarca tra l'altro in Danimarca vi do una notizia che ho saputo stamani io e con piacere ve la trasmetto in Danimarca nel 2021 è stato sottoscritto il primo accordo collettivo fra aziende che operano del fintech con le organizzazioni sindacali noi come riferimento europeo quindi anche italiano abbiamo soltanto questo accordo collettivo fatto nel 2021 in Danimarca allora rispetto a quella che è la situazione le banche prestano soldi principalmente l'attività della banca che sono due il modello di business dichiarato prima in maniera corretta da Susi tutto quello che c'è nel mondo del business vendita dei prodotti però le banche vendono anche soldi e quindi gli affidamenti i prestiti e quant'altro il fintech vi prego se non ci credete di documentarvi perché è semplice per farlo nelle banche del nord Europa Inghilterra compreso il fintech viene utilizzato così si presenta l'azienda chiede l'affidamento presenta i bilanci l'operatore immette i dati li riclassifica immette i dati di bilanci nelle banche e automaticamente viene fuori il merito creditizio questa è il fintech vero lei mi correga se dico una stupidaggine il fintech è vero utilizzato nelle banche del nord Europa anche la Francia sia adeguata a questo la domanda è i nostri amministratori delegati i nostri consigli di amministrazione con il fintech lo utilizzeranno soltanto per il modello di business o per tanti altri tipi di settori interni alla banca o avranno il coraggio anche loro di spogliarsi del potere che hanno nell'erogare credito tutto sommato a chi vogliono loro perché fino a pochi anni fa avevamo 250 miliardi di sofferenze bancarie è intervenuta pesantemente la BCE poi sono stati ridotti poi sono stati questi debiti che avevano certi creditori che tra l'altro erano tutti condensati soltanto nelle principali imprese quindi le sofferenze non venivano dalla famiglia o dall'imprenditore piccolo o dall'impiegato che va a chiedere 5, 10, 15 mila euro di sportello ma sono stati grandi affidamenti che hanno prodotto le grandi sofferenze bancarie per non ripetersi questo hanno preso questi si sono inventati in maniera intelligente perché sta gente non è che fa le cose in maniera superficiale d'accordo con la BCE hanno venduto a società di recupero credito italiane e straniere hanno venduto quelli che erano i debiti che non riuscivano a riscuotere ecco per non ripetersi quel fenomeno che è stato gestito così e che ha ripulito i bilanci delle banche ora io vorrei vedere se il fintech quando sarà partito in maniera importante tutto il leader della trasformazione di girate se il fintech verrà applicato anche ai criteri per erogare credito che sono una barzelletta non ci può essere il fintech e la trasformazione digitale solo per l'operatore sportello per il direttore che deve stare dentro certi limiti di fidi di concessione di fidi mentre i consigli di amministrazione e gli amministratori delegati continuano a fare quello che vogliono senza utilizzare quei parametri che vengono attraverso il fintech utilizzati nel nord di Europa questo è un altro tema che chiaramente la BCE deve per forza dare delle risposte perché in un clima europeo non più nazionale in un clima europeo non più nazionale dopo gli ultimi avvenimenti se permetterà la BCE l'applicazione del fintech la non applicazione del fintech per la misurazione del credito per il merito creditizio se non lo permetterà per il settore bancario ma sarà stringente nei confronti degli altri paesi europei è chiaro che ci sarà una rivoluzione all'interno del settore bancario europeo l'ultimo aspetto e vi ringrazio veramente per l'attenzione ringrazio per l'ottima iniziativa riguarda un argomento che va tenuto sott'occhi in maniera estremamente importante lo dovrebbe fare la politica che non ha capacità e non lo farà salvo tra pochissime eccellenze politiche che abbiamo nel nostro paese ma è quella della costituzione dell'unione bancaria europea l'unione bancaria europea altro non è e altro non sarà che è un contenitore all'interno del quale ci saranno maggioranze e minoranze come sono presenti oggi all'interno della BCE e che farà come dire che traccerà un percorso insieme alla BCE a livello politico di dove dovrà andare il settore ergo se le banche italiane importanti banche italiane non sono rappresentate adeguatamente all'interno dell'unione bancaria europea noi avremo il processo inverso di gruppi bancari di fondi internazionali che se ne fregheranno del golden power la legge che non permette attualmente ai fondi internazionali di acquisire banche o aziende strategiche italiane se ne fregheranno del golden power ed entreranno nel territorio nazionale a prendersi magari purtroppo i gioielli migliori le banche migliori perché se va a buon fine l'operazione unicredit commercial bank si crea un precedente perché il golden power non possa più avere un ruolo politico fondamentale perché non è possibile che no cioè diranno c'è una banca fondamentalmente italiana che si prende una banca tedesca a questo punto io credito agricole che faccio un esempio che ho il 19% del BPM a questo punto metto i soldi sul tavolo e faccio 9% e mi prendo tutto BPM non lo fa adesso perché ma io ho una persona intelligente ha sempre detto io non faccio operazioni ostili ma a quel punto se ci sono dei precedenti avverrà anche questo quindi l'Unione bancaria europea batte un uomo sott'occhio perché insieme alla BCE darà le carte nei prossimi giorni nei prossimi mesi grazie grazie Lando Sileoni grazie a tutti grazie a tutti